Ida Trapisardi da Vinci, da oltre 110 anni formiamo i professionisti di domani. Privileggiamo la didattica laboratoriale, instaurando partnership e convenzioni con le principali istituzioni economiche, professionali e sociali della città e provincia. L'alternanza scuola-lavoro fa entrare i nostri studenti nel mondo del lavoro per conoscerne le dinamiche. I nostri indirizzi, amministrazione, finanze e marketing, sistemi informativi aziendali, turismo. Servizi commerciali, informatica e telecomunicazione, costruzioni, ambiente e territorio. Ida Trapisardi da Vinci, professionalità, dinamismo, innovazione.